la seconda serie alla 1 Mattia alla 2 Luca Scaramuzza alla 3 Davide Udeschini alla 4 Paolo Borsa alla 5 Michele Cibertoni alla 6 Giorgio Vangeli alla 7 Giacomo Brizzolare alla 8 Gabriele Pardiello Giulio Gambarotto 31.08 su Ludovico Gnero 31.77 stesso tempo anche per Nicola Rosso quindi i due atleti in seconda posizione appaiati ai 50 metri siamo in conclusione con la terza serie alla 7 Rosso alla 5 Gnero alla 3 Gambarotto Nicola Rosso 1.3.99 su Ludovico Gnero 1.4.37 Giulio Gambarotto 1.5.69 ragazzi uscite dall'acqua per cortesia ragazzi uscite dall'acqua alla partenza la prossima serie che è la seconda